Buongiorno ragazzi, allora con oggi continueremo il nostro percorso all'interno delle origini di Roma. Affronteremo però il versante politico, cioè come la politica si organizzava all'interno di una Roma delle origini, quindi quella appena nata che abbiamo visto con la precedente lezione, nascere, crescere, svilupparsi. Affronteremo solamente la parte della politica, queste lezioni saranno un po' più, voglio veramente procedere per piccoli step, perché è un argomento molto importante ma anche molto complesso. Adesso parleremo di organizzazioni politiche, abbiamo visto quando ne abbiamo parlato con i greci, con la Grecia, che già c'erano dei concetti abbastanza articolati, con Roma è uguale. Ok, quindi ho deciso di fare un po' per volta, solo della politica, parleremo solo di com'è l'organizzazione politica di questa Roma delle origini. Allora, è veramente fondamentale che voi abbiate con voi lo schema che io ho caricato in didattica. Potete anche non utilizzarlo se volete, però per questi argomenti, questo e soprattutto il prossimo, che faremo nella prossima lezione, sarebbe veramente ideale che voi aveste sotto mano quello schema lì, o che possiate vederlo. Spero tantissimo che abbiate una stampante a casa, in modo che queste cose possiate stamparle, perché almeno evitate di guardare uno schermo per del tempo in più, ok? Quindi, se lo avete sotto mano, bene, perché io lo seguirò e lo integrerò, ok? Allora, e anche magari vi dico cosa ho scritto perché potrebbe essere che non capiate la mia scrittura. Allora, le origini di Roma politica. Prima domanda, chi aveva il potere a Roma? Allora, chi aveva il potere? Il popolo. Il popolo è il primo concetto commesso. Questo ci deve fare ricordare un'altra struttura che noi abbiamo già conosciuto dove il popolo deteneva il potere, che era quella della Grecia, cioè delle polis. Anche nelle polis era il popolo che deteneva il potere. Attenzione perché questa cosa è molto affascinante, nel senso che la Roma delle origini assomigliava tantissimo come struttura politica e sociale alla polis greca. Forse ve l'avevo già accennato nella precedente lezione che i romani si sarebbero ispirati tantissimo al mondo greco. L'abbiamo visto, ad esempio, per la moneta, ecco, sul modello di quella campana. Sì, lo fa inizialmente anche con la politica e anche con l'organizzazione sociale. Si ispira tanto perché? Perché in quel momento in Italia le città della Magna Grecia e quindi la civiltà greca era la forma più matura di civiltà, più sviluppata di civiltà con cui i romani erano entrati in contatto. Cosa significa? Che benvenga a prendere esempio da questa evoluta forma di civiltà. Benvenga. Sappiamo che i romani, come vi dicevo, sono dei grandi emulatori di modelli di valore e i greci stavano offrendo dei modelli di valore. Era al momento, ripeto, la civiltà più evoluta. Quindi Roma cosa fa? Si ispira a questa civiltà per gettare le sue prime basi. E tra le altre cose la Grecia c'era arrivata con un certo percorso, no, a queste basi consolidate. Roma parte già da dove la Grecia aveva consolidato il suo successo. Cioè il successo della Grecia era già stato raggiunto a livello di strutture politiche, strutture sociali. Pensate Roma che si ispira direttamente alle migliori strutture greche per partire. È chiaro che aveva tutte le carte in regola, quindi Roma per diventare una grande potenza. Se le sue basi iniziali sono le stesse basi greche, ovvero le migliori basi greche, capite cosa intendo. Loro partono dal meglio della Grecia, quindi non possono fare altro che svilupparsi. Ed è molto affascinante questo concetto. Teniamolo bene a mente per capire come mai Roma divenne una grande potenza. Aveva un grande modello e un grande esempio vicino a sé. Tornando a noi. Allora, il popolo detiene il potere. Come lo detiene però? Io ho suddiviso nello schema. C'è una prima parte dove vedete una parola cerchiata che è Rex. E una seconda parte che vedete un'altra parola cerchiata che sono Assemblee. Ok? Perché il popolo deteneva il potere in due modi. Il primo modo era delegare parte del suo potere a una figura particolare che è quella del Rex. In questo caso. Un altro modo in cui esercitava, il popolo esercitava il suo potere era riunendosi in Assemblee. Guardiamo la prima parte. Quando il popolo delega il suo potere a una figura. Un magistrato unico, l'ho messo tra parentesi, Rex. Magistrato unico. Vedremo perché. Una sola figura che però riunisce in sé tanti poteri. Magistrato anche perché detiene oltre che il potere esecutivo, che di solito è quello di un re, quello di far rispettare la legge, insomma le sue direttive e via, tiene nelle sue mani anche il potere giuridico, una parte, e il potere legislativo. Quindi è per questo che viene definito magistrato unico. Tiene tutti e tre i poteri nelle sue mani. Ovviamente non li esercita da solo, però intanto lui ha questi poteri con sé. La questione del Rex, cioè questa figura del Rex dura dal 753, i numeretti accanto, al 509 avanti Cristo. Quindi quasi due secoli e mezzo. È una figura che resiste, è una figura politica che resiste quasi due secoli e mezzo. È tantissimo ragazzi. Dunque, nella parte sinistra dove c'è la freccia più grossa e colorata di nero, ho messo in ordine di elenco puntato quali sono i poteri che, nello specifico, che aveva il Rex. E invece nell'elenco numerato, subito sotto al Rex, ci sono quei famosi sette re di Roma. Forse l'avete già sentito, no? Questa successione dei famosi sette re di Roma, che sono i sette re romani che per due secoli e mezzo hanno amministrato la città. Di solito si sanno a memoria. O comunque, li si studia. Allora, prima guardiamo, prima guardiamo qual era il potere, che cosa doveva fare questo Rex. Io l'ho sintetizzato con un concetto latino. Troveremo, inizieremo a trovare concetti latini, quindi magari, insomma, magari che li avete già sentiti, no? Nelle traduzioni che avete fatto. Il concetto di imperium. Allora, inizialmente, il fatto di comandare un esercito, cioè di essere un capo militare, ti faceva automaticamente guadagnare il cosiddetto imperium, cioè questo, il potere. Il fatto che tu fossi una persona di rilievo, essere un grande comandante, essere un grande generale, chiaramente ti faceva risaltare agli occhi della popolazione e avevi un peso diverso, un peso sociale diverso. Allora, l'imperium, cioè il potere del Rex, lo sintetizzo, cioè il Rex deteneva il cosiddetto imperium. E com'era fatto questo imperium? L'imperium era il comando delle truppe, cioè il potere che lui deteneva, consisteva nel comandare le truppe, comandare l'esercito. Poi, il potere religioso, perché sappiamo sempre, forse ce lo ricordiamo, da Sparta magari, che uno dei re, o che, insomma, anche lì, prima che diventasse oligarchica, aveva, come dire, un, non Sparta, scusate, Atene, prima che diventasse, sappiamo che era partita da essere, da essere una polis monarchica, no? Uno dei re aveva il potere religioso, no? Era molto importante avere questo contatto con gli dèi. Quindi il Rex è anche colui che, nel suo imperium, cioè nel suo potere, aveva anche quello di essere capo religioso. Secondo, potere religioso. Poi, ho messo pulizia, un po' per sintetizzare il potere esecutivo. Che cosa fa la pulizia da noi, nella nostra vita? Controlla se le regole siano rispettate, prende i trasgressori. Oggi, nelle giornate di oggi, anche abbiamo visto come i trasgressori siano anche puniti, quelli che non rispettano le leggi, denunce, multe, abbiamo visto, con questo coronavirus. Cosa fa la polizia? Controlla chi rispetta le leggi, chi non le rispetta, ok? Ma il potere esecutivo del re consiste anche nel, vediamo un po', anche nel prevenire, ok? Nel prevenire, quindi nel organizzare delle misure, delle strutture, che facciano in modo che le reggi siano rispettate, che le regole siano rispettate. E anche reprime, nel senso che, oltre a controllare la situazione, anche punisce i trasgressori. O ancora difende, perché, insomma, è un pensiero interessante. La punizione è anche difesa della comunità. Questo è il potere esecutivo del rex, cioè un cercare di mantenere l'ordine, ma anche proteggere tutti nel modo che può. Poi, il potere amministrativo, cioè semplicemente amministrava le casse dello Stato, cioè il patrimonio collettivo. Come se fosse, non so, la Banca d'Italia, ecco. Lui aveva solo l'insediamento di Roma, però le casse di Roma erano amministrate da lui. Le finanze, i danari, ok? Potere giudiziario, cioè era anche giudice nelle controversie, ho scritto sotto nelle controversie, pubbliche e private. Cioè, sia come una specie di giudice di pace, adesso c'è questo, se ci sono diatribe tra cittadini, così lui le risolveva, quindi tra privati, ma anche pubbliche, nel senso cause più grosse, anche di politica estra, anche diatribe con gli alleati, con le popolazioni di fuori. Lui era giudice, ok? E giudicava, come il giudice di un tribunale. L'ultimo è il potere legislativo. Quello che ho scritto sotto è il latino leges, reges. Leges, reges. Le leggi, no? Del re. Ecco, cosa sono? Sono delle leggi che lui emanava, ok? Quelle famose leggi che poi, al contempo, verificava attraverso il suo potere esecutivo che fossero rispettate, ok? Quindi anche emanava leggi. Perfetto. Aveva tutto nelle sue mani. Questo era l'imperium, era il potere che aveva un rex. Ora passiamo all'elenco dei re. Il primo lo conosciamo, il più antico. Li ho messi in ordine dal più antico, dal primo all'ultimo, ok? Parentesi. Ho messo avvicino a ogni nome un'altra dicitura, un'altra perifrasi. Latino, sabino, meglio, locuzione. Latino, sabino, latino, sabino, latino, sabino, latino, sabino, e poi etrusco, etrusco, etrusco. Scusate, sì, anche a Tarcugno e Superbo, scusate, mi sono accorta adesso che non avevo aggiungo, però nella vostra ci sarà. Etrusco. Allora, cosa significa? che di questi sette re, quattro sono di dinastia latino-sabina, tre sono di dinastia etrusca. Quindi vediamo come nella storia di Roma si intessono diverse etnie, diverse provenienze culturali anche. Una prima parte di latino-sabini, che era il nucleo originario, le popolazioni originarie, e gli ultimi tre invece che provengono dalla popolazione degli etruschi, probabilmente perché c'era iniziato ad esserci anche dell'unione, dello scambio fra le varie popolazioni. Allora, il primo, Romolo. Allora, sotto di ognuno ho scritto le cose principali che hanno fatto in estrema sintesi, ok? Probabilmente le troverete anche nel vostro libro, come l'elenco di questi re, forse però quello che vi sto per dire non lo troverete, non lo so, vediamo. Comunque, quello che sto dicendo ci deve essere nel caso vi chiedessi di fare qualche esercizio, qualcosa, poi potete aggiungere quello che c'è nel vostro libro. Allora, Romolo cosa fa? Introduce questo matrimonio scritto, però non è che prima non ci si sposava, ok? Però c'era la poligamia. Cosa fa Romolo? E ricordate questo perché quando si farà Augusto, quando si farà Augusto, ok? Queste cose ritorneranno. Allora, Romolo cerca di mettere ordine, ordine, al modo di vivere delle persone, perché fino a quel momento ci si sposava un po' con chi si voleva e anche con più persone alla volta. C'era un po' un certo disordine. Poi pensate al ratto delle Sabine che vi avevo raccontato, se una città dovesse nascere così, pensate quanta festa fra uomini e donne, ok? Cosa fa Romolo? Mette ordine ai valori. Quindi, matrimonio, ma deve essere un matrimonio monogamico, ok? Un monogamo, come preferite, però deve esserci un coniuge, non più di uno, o come facevano i greci, vi ricordate, sia la moglie, però trae poi la concubina e poi l'etteria, tutte queste cose qua. No, matrimonio, una persona, insieme, basta, ok? Perché Romolo ci teneva ai valori della famiglia, ai valori originari di un popolo, ai valori più nobili. Romolo ci teneva secondo la tradizione. Poi introduce la proprietà privata, che non c'era, però pensate, lui ha fondato una città, quindi è normale che queste cose, una città poi di pastori, perché la gran parte erano pastori, quindi è normale che queste cose dovessero essere stabilite, perché se una città viene fondata dall'origine e soprattutto la si fonda in una maniera un po' così, un po' turbolenta, e la popolazione soprattutto di pastori, c'è bisogno che si definiscano delle cose che per noi sono ovvie, come abbiamo sempre detto in classe, ma per altri, magari nel passato, non sono così ovvie, ok? Allora, la proprietà privata e soprattutto l'ereditarietà della proprietà privata, cioè è trasmissibile da padre a figlio e poi da figlio a figlio e figlio a figlio, così, trasmissibile. Secondo, Numa Pompilio, sempre dinastia latino, Sabina, Numa Pompilio, ok? Nel caso non riusciste a leggere, introduce il culto di Giano, che diciamo che è uno degli dei originari di Roma, ok? forse più antichi, Yanua, scusate se non l'avete già sentita, significa porta, Yanua, era il dio delle porte, quindi del benvenuto, delle entrate, delle porte sia private, quindi delle abitazioni, che pubbliche le grandi porte della città, ok? Era un po' come Vesta, la dea del sfocolare, sono quegli dei molto antichi, originari, che fanno riferimento alla collettività, ma anche allo stare insieme, cose molto antiche, ragazzi, molto antiche, e ecco, Numa Pompilio si dedica soprattutto alla parte religiosa, perché oltre a introdurre questo culto, ho scritto collegi sacerdotali, cioè introduce i collegi sacerdotali fatti di auguri, vestali, vi ho detto Vesta, Le sacerdoteste di Vesta erano le Vestali, l'abbiamo già vista con Romolo e Remo, perché la madre di Romolo e Remo era una Vestale, ok? Però lui introduce collegi, cioè gruppi organizzati, non più sacerdoti così random, ma gruppi organizzati, abbiamo detto auguri, vestali, aruspici, e l'abbiamo già studiato con gli etruschi, e i pontefici, che sono quelli più propriamente romani, ok? Poi diverteranno più avanti anche una figura politica, però per adesso il pontefice era un ministro del culto, come da noi di pontefice ce n'è uno ed è il massimo ministro del culto, ok? Nella nostra civiltà, il papa. Ultimo, il calendario, lui introduce il calendario chiamato Numano, proprio in onore di Numa Pompilio, ok? Diviso in 12 mesi e 355 giorni, 10 meno di noi, nel quale organizza tutta una serie di ricorrenze e feste pubbliche, cioè stabilisce anche quali sono le ricorrenze religiose e le feste pubbliche. Perfetto. Tullo Ostilio, altra dinastia latino-sabina, io ho scritto Conquista di Albalonga, è una gran cosa che fa, Conquista Albalonga, ci ricordiamo che Albalonga era uno di questi centri che era un centro dal quale proveniva, cioè fondato da Iulo, dal quale appunto proveniva Rea Silvia, la madre di Romoleremo, però era una città, non era da lì che partiva Roma, era un insediamento. Lo conquista. C'è un episodio famoso, forse lo troverete nei quadri quando farete Storia dell'arte, quadri del Settecento di Jean-Louis David, giuramento degli Orazzi e dei Curiazzi, è un quadro famosissimo di stampo neoclassico, potete anche guardarlo se volete, è veramente famoso, di sicuro l'avete visto già, comunque l'artista è famosissimo, è quello che ha dipinto Napoleone. Questo quadro rappresenta proprio questo scontro fra Orazzi e Curiazzi, chi sono Orazzi e Curiazzi? Perché, e poi perché ve li sto nominando adesso? Vengono fuori proprio in questo episodio, quello della conquista di Alba Longa, perché per vincere la città si era deciso di fare uno scontro, ok, solo fra i campioni, dell'una e dell'altra parte, c'era nell'antichità, chi ha visto Troi, forse, forse se ne rende conto, quando Achille propone di battersi proprio all'inizio col campione dell'esercito avversario, in modo da risparmiare le vite, è uno scontro all'ultimo sangue, si batteva il campione di una parte e il campione dall'altra, chi vinceva aveva vinto tutto fondamentalmente, ma l'abbiamo già sentito, no? Ecco, una pratica greca che i romani applicano ancora anche in questo caso, quindi c'è la parte dei romani e la parte di Alba Longa, i fratelli Orazzi erano i campioni di Roma, i Curiazzi erano i campioni di Alba Longa, gli Orazzi, i fratelli Orazzi vincono i Curiazzi, quelli di Alba Longa, e quindi la città è conquistata. Un episodio molto famoso, ci hanno fatto quadri a gogo. Poi, quattro, Ancomarzio, di nuovo, latino sabino, ho messo opere pubbliche in generale, mura e ponte, è il primo che costruisce le mura di Roma e colui che costruisce poi su un'ansa, un'insenatura del Tevere, presso la cosiddetta isola tiberina che adesso fa parte di Roma tranquillamente, un ponte chiamato Sublicio che metteva in comunicazione delle parti distanti del territorio di Roma, un gran ponte di legno il Sublicio, ecco, quindi, insomma, fa questi lavori, queste opere pubbliche, le mura, il ponte e anche, tra le altre cose, fonda la colonia di Ostia, Ostia Lido, cioè, ce lo ricordiamo che in J-Hax magari abbiamo sentito questo nome, Ostia adesso è parte integrante di Roma, insomma, però, all'epoca no, era piccolina, quindi lui fonda la colonia di Ostia, quella lì della canzone di J-Hax. Poi, adesso entriamo nella dinastia etrusca, Tarquinio Prisco, etrusco, il primo etrusco, cosa fa? Ho scritto Tempio di Giove, cioè, lui introduce il culto di Giove a Roma, Giove Capitolino, ecco, quindi, padre degli dèi, poi fonda il Circo Massimo e la Cloaca, ho scritto Max, sarebbe perché non ci stavo, Cloaca Massima, il Circo Massimo e la Cloaca Massima, e lui dice, cos'è sta Cloaca Massima? La Cloaca Massima è un, adesso vi spiego poi anche perché ho scritto quella cosa tra parentesi, è un canale di circa 600 chilometri, scusate, 600 metri, chilometri un po' troppo, di 600 metri, che serviva per bonificare delle zone paludose e acquitrinose vicino al Palatino e al Campidoglio, grazie a questo canale tutte le acque stagnanti vengono fatte drenare dentro il Tevere e si libera una grandissima porzione di territorio dove la città si sarebbe poi espansa e si sarebbe costruito quello che ho scritto tra parentesi, il Foro Boario, cioè il Mercato dei Buoi, Bos, Bovis in latino significa Bue, ok? Perfetto. Poi abbiamo Servio Tullio, Servio Tullio con la I non come Tullo stilio che era senza I, Servio Tullio invece c'ha la I, Etrusco, anche lui, ho scritto Mura perché rinnova, rinnova la cinta di Mura sono le Mura Serviane, le nuove Mura, senatori da 200 a 300, cioè aumenta il numero dei senatori da, erano, oh scusate, ho dimenticato una voce per Tarquinio Prisco, l'altro era il passaggio da senatori da 100 a 200, perdonatemi, proprio così, Tarquinio Prisco, il primo Tarquinio fa passare il numero da 100 a 200 di senatori, mentre il secondo Tarquinio, Servio Tullio, fa passare il numero di senatori da 200 a 300, che è il numero definitivo che resterà, ok? E poi istituisce i cosiddetti comizi curiati, queste due istituzioni, senato, senatori e comizi curiati, li vedremo nella seconda parte dello schema, tranquilli, adesso non li approfondisco, ok? Sono questioni di amministrazione, organizzazione politica. L'ultimo, forse l'avete già sentito, forse sono nomi che avete già sentito, l'ultimo è il Tarquinio Superbo, forse il più famoso perché con lui sono finiti i rex, insomma i re, rex è singolare, non usatelo, ok? L'ho usato per semplificare, sono finiti i re con lui perché era un tiranno, è passato alla storia per essere crudele, appunto, un despota che ha inventato dei nuovi modi per torturare le persone, quindi insomma ci piaceva fino a un certo punto, però, però, e vi ho fatto una parentesi grafa fra il numero 5, 6 e 7, ok? Che porta a una definizione la grande Roma dei Tarquini etruschi, perché dico così? Perché comunque è passata alla storia e anche ai fatti che la Roma sotto i Tarquini, ok? Questi ultimi tre nomi che vi ho detto è una Roma meravigliosa, una Roma florida, ricca, superiore già su tutte le città che è attorno, una Roma che a livello anche di costruzione urbanistico si è sviluppata tanto, quindi il merito della dinastia etrusca è stato quello di aver reso una città più florida, più ricca, più, più, come dire, prosperosa, ok? Vengono ricordati per questo, vengono amati, ricordati per questo. L'ultimo, Tarquini e Superbo, si pensa addirittura che sia stato caricato di una serie di leggende di cattiveria, queste cose qui, perché si voleva giustificare il passaggio dalla monarchia a qualcos'altro che vedremo più avanti, ok? Cioè, l'insoddisfazione dei romani dall'essere governati da un re. Però lo vedremo dopo, forse ci sono anche dei falsi storici intorno a questa personalità, ma intanto ce la ricordiamo un po' così anche dal nome che gli era stato dato, il Superbo significa che era qualcuno che di sicuro non era poi così easy, così semplice di personalità, ok? Seconda parte dello schema, parte finale, il popolo sempre aveva delegato tutto questo al re, ma poi anche cosa fa? Il popolo è riunito, cioè si riunisce in assemblee, assemblee di due tipi. Allora, abbiamo capito fino adesso, se ci ricordiamo qualcosa che abbiamo discusso con i greci, c'era una democrazia rappresentativa e una democrazia diretta, no? Nel senso noi adesso siamo in una democrazia rappresentativa perché noi deleghiamo il potere che possediamo di decidere del nostro territorio e del nostro Stato ai politici, a dei nostri rappresentanti, ai partiti, ok? Noi deleghiamo come se loro ci rappresentassero, cioè fossero i nostri rappresentanti nella grande assemblea del Senato e via così. La democrazia diretta invece è quella dove il cittadino io mi recco in Parlamento e ascolto o parlo o propongo, faccio io le discussioni al posto di un conte, di un Salvini, di un Di Maio, di quello che si vuole. non è possibile oggigiorno, siamo troppi, però con i greci era possibile. I greci facevano così, si riunivano nella Gorà e tutti parlavano, tutti i cittadini maschi, sappiamo, maggiorenni, solo di figli, di figli greci, insomma, della città, capite? Ce lo ricordiamo tutto quello. A Roma avevano deciso di bypassare questa fase, ok? Di essere sempre comunque rappresentati, cioè le persone avevano deciso di essere rappresentate nei vari organi collegiali, cioè di assemblea e di riunione, ok? Questi due organi collegiali sono il Senato, parte sinistra, e i comizi curiati, parte destra. Guardiamo prima il Senato, per favore, guardiamo prima il Senato. Allora, Senex, l'avete già sentito, Senex vuol dire vecchio in tutte le salse, Senex, ok? Di sicuro in latino, l'avrete già sentita questa parola. Senato appunto deriva da Senex, da anziano, ok? Ho scritto solo capi dei gruppi familiari, capi, mi raccomando, i capi dei gruppi familiari in cui era divisa la popolazione di Roma. I numeretti che invece sono sopra la parola Senato sono quelli di cui un po' vi ho parlato con i vari dei re, 100, 200, 300, cioè da un numero 100 di partenza c'era stato il primo Tarquinio, Tarquinio Prisco che aveva fatto passare a 200 e poi Servio Tullio che li aveva fatti passare a 300. Adesso erano, sono 300, anzi ve lo cerchio così. ora sono 300 che alla fine sono 300, 300 senatori, 300 anziani. Solo i capi, mi raccomando, di queste famiglie in cui era divisa la popolazione di Roma. Allora, gruppi familiari ho fatto proprio sotto gruppi familiari due stanchettine, ok? Per far vedere che ci sono, esistono a Roma due gruppi familiari. Da una parte ci sono le Gentes o Gentes, dipende che pronuncia avete utilizzato per il vostro latino. Dall'altra vi sono le famiglie, sono i due grandi gruppi familiari in cui è rivisa la popolazione di Roma. Gentes ho scritto sotto liberi, famiglie ho scritto sotto liberi e servili, cioè ci sono persone di condizione libera e persone anche in condizione servile nelle famiglie, però comunque con più diritti rispetto alla plebe, alla plebaglia. Adesso parliamo di cosa sono, veloce veloce senza tediarvi. Allora, i capi di questi gruppi familiari, appunto i senatori, che sono Gentes o famiglie, ma che cosa sono questi gruppi familiari di cui abbiamo parlato? Ok, allora, dobbiamo fare un attimo un salto indietro alle origini di Roma. Adesso sto spiegando dei concetti che sono un po' più, siamo un po' ok, cioè, seguitemi, andiamo piano piano e cerchiamo di capire. Dobbiamo parlare, dobbiamo pensare alle origini di Roma. Allora, alle origini di Roma, quando era una serie, quando Roma ancora era una serie di insediamenti, prima che fosse un'unica città, ok, c'erano dei capi gruppo, ok, dei gruppi di persone, gruppi di famiglie, gruppi di persone, ok, degli vari insediamenti che avevano dei capi che li governavano, che un po' li organizzavano, li coordinavano, ok, i gruppi più estesi, ok, c'erano dei gruppi più numerosi di altri, tipo delle piccole tribù, ok, pensando proprio all'antichità. Praticamente, allora, questi capi, quando gli insediamenti si sono uniti, hanno stabilito che fossero solamente loro ad avere il diritto di sedersi sulle sedie del Senato, di essere, insomma, membri del Senato, perché in origine erano i più antichi, cioè di origine di tradizione più antica, erano i più forti, sempre stati loro sin dalle origini, quindi solo loro dovevano essere parte di questo Senato che era un'assemblea popolare con particolari poteri che dopo vedremo, però, e nessuno gli aveva detto di no, all'inizio, all'origine era così, però con il tempo loro avevano un po' esagerato, avevano esagerato con il loro, la loro amministrazione del potere e il loro potere era diventato uno strapotere, ok? Quindi, per controbilanciarli, per dargli una misura, ok, si era deciso che anche altre persone avrebbero potuto fare parte del Senato, altri capi, non solo quelli delle famiglie originarie più antiche, quelle di ancora prima che Roma fosse Roma, ok? altri che sono i cosiddetti il pater familias è singolare, patres familias, ok? Patres familias. Chi sono questi? Avete già sentito forse il pater familias? Adesso parliamo di patres familias perché sono più di uno. Chi sono questi? E passo al secondo ramo, sono i capi delle famiglie. quindi per equilibrare, ok, il potere di questi senatori, di questi capi delle Gentes che erano diventati troppi delle Gentes che era diventato un potere troppo grande, hanno deciso di far partecipare al Senato anche i capi di questi gruppi minori, le famiglie, chiamati patres familias. Chi erano? C'erano gruppi minori appunto che anche loro avevano anche loro dei capi però diciamo che erano, sì, avevano un potere minore o diciamo non avevano un'origine così antica rispetto alle Gentes e soprattutto erano legati fra di loro, ok, i membri di queste famiglie erano legati fra di loro da rapporti molto familiari cioè si parla di figli, moglie, fratello della moglie, c'erano famiglie allargate, ok, e oltre a questi ed erano tutti cittadini liberi, infatti per questo ho scritto liberi e servili, oltre a questi personaggi qui nelle famiglie c'erano anche altri magari non so servi, figli dei servi o ecco non erano solo nobili, ok, solo antica origine antica origine di Roma, c'erano anche altre persone in queste famiglie, chiaramente avevano dei privilegi migliori di chi, avevano, cioè avevano una condizione migliore rispetto ad altri che non appartenevano alle famiglie, ok, però c'erano sia cittadini liberi che cittadini in condizione servile, quindi alla fine ed erano appunto ripeto gruppi minori di importanza minore, di potere minore, di dinastia, di capite, di albero genealogico di minore importanza rispetto alle gentes però servivano perché se no i membri delle gentes che andavano a diventare senatori erano troppo potenti ok, quindi il senato alla fine si era organizzato con capi delle gentes e capi delle famiglie e cosa doveva fare il senato? Il senato aveva due compiti allora doveva ho scritto era regolarmente consultato dal Rex per la politica estera e per la politica interna cioè gli dava un supporto approvava le leggi le famose leges che vi avevo detto prima approvava o non approvava le leggi del re oppure approvava o non approvava le decisioni dei comizi curiati che guarderemo fra poco insomma era consultato era un supporto al re oppure il secondo punto e questo ci fa capire quanto fosse davvero importante più degli altri ori più dei comizi curiati il senato era che nei periodi di ho scritto interregnum cioè nei periodi in cui moriva un re e non si eleggeva subito un altro re o la città insomma restava senza sovrano era il senato che deteneva il potere ok quindi nei periodi di interregnum c'è transizione tra regno e regno nell'infraregno ok quel periodo vuoto quei buchi vuoti dove non c'era il re c'era il senato che teneva il potere passiamo ora all'ultima assemblea quella dei comizi curiati ho scritto un termine latino sotto curiati le cosiddette curie scritto curiae ok cioè unioni di uomini perché i comizi curiati si basavano proprio sulle curie che affronteremo però nella prossima lezione quando parleremo di com'era diviso e com'era divisa socialmente proprio la popolazione non dal punto di vista politico ora guardiamo solo che cosa faceva di politico che cos'era il comizio curiato a livello politico e chi vi partecipava solo membri delle gentes i cosiddetti gentiles allora non ho scritto capi attenzione ho scritto membri anzi vediamo un po' ve lo sottolineo subito così lo avete aggiornato ho scritto membri non ho scritto capi non serviva essere un capo delle gentes gentes e non famiglie capo delle gentes per per partecipare solo un membro delle gentes ovviamente maschio le donne non consideratele neanche non c'era non esisteva non erano neanche concepite le donne ho scritto membri quindi non serviva essere capo sotto tra parentesi ho scritto questione di censo puntini 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 sì perché allora abbiamo visto che sono stati istituiti da da Servio Tullio questi commizi curiati adesso vi faccio anche un bell'asterisco ok così ce lo ricordiamo che sono stati istituiti proprio da lui non ce lo scordiamo e e una freccetta dai così siamo sempre sicuri che lo capiamo e sono stati istituiti da lui ok ecco non non si poteva partecipare a queste assemblee per diritto di nascita quindi ma solo per diritto di per ragioni di censo cioè su basi economiche nel senso che anche se era un'assemblea popolare i membri delle gentes erano anche quelli più ricchi ok quindi di più antica nobiltà rispetto a Roma rispetto scusate all'origine di Roma come vi ho detto prima ma anche quelli con più denari con più ricchezze ok quindi tu se facevi parte di una gente di una gens di una gens eri anche fra i più ricchi della città ecco perché i comizi curiati facevano si erano composti da membri delle gentes e quindi erano composti automaticamente dai cittadini più ricchi di Roma ok è importante questo quali poteri avevano e con questo poi ci fermiamo allora erano coloro che allora riconosceva il comizio curiato i comizi curiati riconoscevano il potere del rex dopo l'elezione c'erano quelli che dopo che era stato eletto gli davano il benestare cioè ok ti abbiamo ti accettiamo ti abbiamo accettato sei re anche per noi senza il loro consenso un re non sarebbe potuto diventare tale ok poi i comizi curiati eleggevano i senatori e la prossima volta scopriremo come ok perché tutto è legato a come era suddivisa la popolazione a livello sociale quindi avevano lo scopo di eleggere di fornire o meglio eleggere barra fornire i senatori al senato ok e poi infatti come ho scritto il terzo punto fornivano le centurie cos'erano le centurie i romani abbiamo già sentito parlare di centurioni e cose così i romani avevano un esercito organizzato in centurie sempre che le vedremo la prossima volta come erano molto semplice in realtà una centuria erano dieci fanti e cento cavalieri erano come dei blocchetti no il grande esercito romano era formato da tanti di questi blocchetti fatti di dieci fanti e dieci cavalieri e cento cavalieri scusate dieci cavalieri e cento fanti esatto confermo dieci cavalieri e cento fanti perché a parlare di tutto poi numeri vedete come è difficile Roma è complessa a livello di struttura i comizi curiati fornivano questi blocchetti di dieci cavalieri e cento fanti la prossima volta vedremo come ok quindi questi erano i tre i tre doveri i tre compiti dei comizi curiati bene scaricatevi lo schema noi ci sentiamo presto per la prossima lezione mi raccomando state al passo perché fra poco finite le prossime due lezioni vi farò fare un lavoretto in merito a queste quattro cose queste quattro lezioni che abbiamo fatto finora va bene state al passo state aggiornati non mollate e andiamo avanti così ciao ragazzi vi penso